Ragazzi, e noi che ci prendiamo in giro, l'estate è finita, però ci rimane qualcosa dell'estate, tipo i fiori di zucca, quindi usiamoli finché si trovano sul mercato, quindi fiori di zucca, mozzarella, farina e prosciutto cotto, ma che facciamo? Facciamo una frittadina di fiori di zucca, quindi, guardate a me, oh, prendo il fiorellino e faccio così, tolgo questi pezzettini, poi gambo tolto via, apro, così, zaccate, lo apro, perché non voglio buttare questa parte qui, voglio buttare soltanto qui il pistillo, ecco qua, poi che cosa faccio? Prendo il fiore di zucca, questa è velocissima, questa è la ricetta di mamma fiorella di madre, infarino, zacc zacc, per chi è intollerante, lo sapete meglio di me, amico di mais, cose del genere, e comincio a disporre i fiori qui su, sulla padella, all'interno della padella. Allora, se non sapete da dove provengono i fiori, tutto quanto, se non sapete se sono stati, come sono stati coltivati, che fate? Una volta aperti, li sciacquate, e li asciugate rapidamente, con un bel panno, vedete? A me gli occhi, guardate così, padella antiterente buona, buona che significa? No, la marca, le cose, perché noi le marche non lo diciamo, è buona che sia un antiterente nuovo, ok? Allora, vedete? Io ho messo 10 fiori di zucca, io oggi ho pagato al mercato, 1,50 euro un mazzo, da che mercato vado io? Al mercato Trionfale, a Roma, se non siete in Roma, organizzatevi, fate un viaggio una volta al mese, facciamo una spesa insieme. Adesso, poi, fior di latte, buono, sempre buono, perché tanto, poi, si sente la differenza, oppure il fior di latte, che non mangiate più, perché adesso si è un po' asciugato, e quindi è un buon modo per recuperarlo, come lo taglio a fette, perché si deve proprio bagnare tutto quanto il fiori di zucca. Io metto, poi mi porta qua, così, vado, riempio tutti i buchetti possibili e immaginabili, qua, perfetto! Poi, vado col prosciutto cotto, questa è una bontà, questa la mangiamo anche i bambini, se la mangiano questa frittatina, guardate eh! A me piace da morire tagliato sottile, così, buono! Mettete il sale, se il prosciutto cotto non è tanto saporito, allora mettete il sale! Poi, proseguiamola con la copertura, altri 10 litri di zucca! Ma perché l'infarino? Perché così evitiamo di farli attaccare, e fanno anche un po' di crosticina, anche, sulla superficie, no? Quindi io faccio così, soltanto alla parte esterna passo la farina, vedete? L'interno no, e vado così, guardate che meraviglia! Questa ricetta, l'ho detto, me l'ha insegnata mia madre, che d'estate a casa? A Nettuno, fiori di zucca, le verdure cotte al forno, gratinate, sempre! Accendo, e vado, pac! Quindi, aspettiamo che faccia un po' di crosticina sotto, e poi andremo a girare come una frittata, però mi raccomando, attenzione, non facciamo bruciare niente! Ma avete fatto caso che io non ho messo nessun grasso di cottura? Ebbene sì, perché non serve, non serve assolutamente, quindi, controlliamo sempre che si muove, vedete, si muove la frittatina, intanto guardate, si sta sciogliendo, sto ben di Dio, io con coperchio, che non ho mai quelli giusti, e copro un pochino, così facciamo l'effetto sempre scioglimento della mozzarella, quanto tempo? Quanto tempo? Quanto tempo? 5 minuti, 5 minuti sono giusti, dai! Piano piano, e poi lo gireremo insieme! Ci siamo, oggi siamo un po' al ritmo di bossa nuova, quindi è un po' lenta la cosa, però, vediamo un po', ci proviamo a girarla, come al solito, vediamo spero che ci dice bene, vado così, allora, sembra che va bene, guardate, la mozzarella sta fondendo, Mamma mia ragazzi, questo è, sono quelle cose che, vai all'inferno, se mangi questa vai all'inferno, perché è troppo goduriosa, allora, aspettiamo che si cuocia anche sotto, e poi, ce l'assaggiamo, insieme! Qua la mozzarella è fresca, questa è la mozzarella è fresca, guardate, il lattuccio sta perdendo, quindi, se volete potete utilizzare la mozzarella un pochino più stanca, quella che sta un po' riposando dentro il frigorifero, invece da comprarla appositamente per fare questa ricetta, come ho fatto oggi io, ok? È pronta, spengo tutto, spengo tutto, sarà difficile? No, non tanto! Fatta! Non bisogna assaggiarla, io la devo assaggiare per forza, come faccio? Guardate, che meraviglia! La la la! Pensate su, aspetta un po', faccio una cosa fighissima, aspettate un secondo, c'è un pezzetto di pizza scrocchiarella, scrocchiarella, aspetta! Guardate qua! Questa proprio, sentite come fa? Zacchete! Guardate che faccio, eh! Mamma mia, tiè, vada qua! Allora! mmmm! Mmm! 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 Allora, c'è tutto, il gusto dei fiori è esaltato dalla mozzarella, non c'è niente da fare! La mozzarella, buonissima! È la pena di latte, per fortuna, è buona filante, il prosciutto cotto giusto, un po' di prosciutto cotto buono, da paura, fatela, fino a quando ci stanno i fiori, buonissima! Mmm! 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 U, do, 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 do. Grazie.